L'unico rammarico di Alessia Poglieri in quest'annata è la finale mancata nei 400 misti agli europei dove per un centesimo la nuotatrice azzurra è stata eliminata. Per il resto, guardandosi alle spalle, un gran bel bottino. Ha conquistato agli assoluti il terzo posto nei 400 misti e l'oro nei 200 farfalla. Nella stessa specialità poi è arrivato il bronzo ai giochi del Mediterraneo. A questi si aggiungono gli ori nei 200 farfalla 400 misti ed il terzo radino del podio nei 200 d'orso a Roma nei campionati estivi. Dopo le vacanze, l'atleta delle Fiamme Gialle guarda i mondiali in vasca a corta dicembre e nella lunga ad agosto 2019. Ci stiamo di nuovo allenando, non siamo a pieno regime ma quasi, infatti sono già abbastanza stanca fisicamente, però va benissimo. La mia prima gara dell'anno sarà a Riccione, in meeting, il 21 ottobre che tra l'altro è il mio compleanno. Per cominciare l'anno, gareggiando si spera molto bene, ci saranno i mondiali in vasca a corta a dicembre e i mondiali in vasca a lunga ad agosto. Poi vedremo.